La ordine dei lavori, Presidente, io la ringrazio per avermi concesso la parola perché volevo dare all'Aula una formale comunicazione di un fatto che noi riteniamo particolarmente rilevante non solo per la destra italiana ma anche per l'intera nostra nazione. L'onorevole Giorgia Meloni, nostra collega, Presidente di Fratelli Italia, è stata ieri eletta all'unanimità Presidente delle Sierre, che è il partito dei conservatori europei, partito nel quale sono rappresentati 40 forze politiche a livello internazionale, tra le quali i conservatori inglesi, il PIS polacco, partiti di governo particolarmente autorevoli. Su 11 famiglie europee nessuna è preseduta da italiani, finalmente da oggi abbiamo una italiana, una donna, alla presidenza di una forza politica europea per la costruzione di un'Europa dei popoli, per una costruzione di un'Europa che ci veda come Italia protagonisti. Io voglio ringraziare tutti i colleghi di tutte le forze politiche che hanno voluto da avversari come da alleati attestare a Giorgia Meloni una considerazione che non gli viene attribuita solo all'interno dei confini nazionali ma che li travalica e rende protagonista la destra italiana e non confinata in recinti che qualcuno voleva attribuirci a livello internazionale. Quindi questa comunicazione, questa intenzione è quella di tributare a Giorgia Meloni il giusto riconoscimento per il lavoro che ha svolto in questi anni per rendere la destra protagonista ma per dare all'Italia un altro rappresentante internazionale che vada a fiancarsi a quelli che già presiedono il Parlamento europeo, che hanno ruoli particolarmente rilevanti nella Commissione europea e che possono oggi ancora meglio difendere i nostri interessi nazionali. Ringrazio.